partiti i cavalli della quarta corsa parte piuttosto velocemente bentley soyster boy dal centro della pista all'interno ci sono i frame tignoso poi cloniche al suo esterno anche la figura di kemeridge bay ancora più all'esterno troviamo anche la giubba chiara che è quella di sunny kodiak la cui scia è presa da flower in the jungle da favorita dietro a questi anche l'ittolare primo parziale stato piuttosto brillante siamo sui mille metri bentley soyster boy è messo sotto pressione dall'esterno da flower in the jungle ci prova anche sunny kodiak al loro spalle ci prova l'italo ara che però il problema di recuperare lo spazio ancora più all'esterno troviamo i frame che si presenta bene subito ai fianchi della stessa sunny kodiak ci prova ancora flower in the jungle ma i frame con uno scatto solo ha risolto abbondantemente la contesa ci prova l'italo ara ma ormai è troppo tardi vince ai frame nei confronti l'italo ara per il terzo posto sunny kodiak ai frame partito da uno steccato basso a circunnavigato il gruppo è venuto a vincere molto bene ottenendo la vittoria numero 4 in carriera spiazzati tutti gli avversari a partire dall'italo ara finale tardivo ma comunque efficace per collezionare il secondo posto 4 al primo 6 al secondo al terzo posto il numero 7 sunny kodiak quindi numericamente 4 6 7 è l'ordine d'arrivo ufficioso della quarta ciao ciao ciao